Dieci spettacoli da novembre ad aprile per la nuova stagione del Teatro Stabile d'Abruzzo con un cartellone messo in campo dal direttore artistico Giorgio Pasotti, sempre di grande qualità, la presentazione a Palazzo Fibioni. Gli abbonamenti si metteranno in vendita da lunedì prossimo alle 15 e il TSA è riuscito anche per questa stagione teatrale a mantenere prezzi stabili. Tantissimi nomi di prestigio in questa stagione da Vanessa Gravina a Leo Gullotta, passando per Stefano Fresi, Fabrizio Bentivoglio, Viola Graziosi, Francesca Chillemi, Donatella Finocchiario, Andrea Bosca, Vanessa Scalera, Maria Angela D'Abraccio per fare degli esempi. Questa terza stagione è il frutto di una semina che ormai ci vede lavorare intensamente da tre anni e questi sono i frutti. Oggi abbiamo un cartellone dove il fiorfiore degli artisti italiani vuole ritornare all'Aquila ed esibirsi, nonostante l'Aquila ancora difetta di un luogo, quello del ridotto dell'Aquila che non è propriamente adatto a questi artisti. Però non di meno la loro volontà, la loro voglia di ritornare all'Aquila ed esibirsi è un segno molto importante di quello che sta ritornando a essere, a rappresentare il teatro stabile d'Abruzzo per il sistema teatro italiano. Come sempre gli spettacoli saranno a ridotto del teatro comunale, anche il TSA spinge affinché si possa riaprire nel più breve tempo possibile il comunale che è un gioiello in tutti i sensi. Abbiamo anche quest'anno, siamo riusciti a mantenere i prezzi in linea con quelli dell'anno scorso, anche lì cercando di venire incontro a quelle che sono delle necessità ormai oggettive del pubblico, ma non di meno stiamo lavorando, stiamo proprio spingendo quasi fisicamente affinché insieme alle istituzioni, il sindaco Biondi in primis affinché il governo ci aiuti finalmente e definitivamente alla restituzione di un gioiello che poi non è solo un teatro, ma è anche un gioiello architettonico che va restituito alla comunità.